Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 21 ottobre. Vi ricordo a tutti quelli che vedono questa rassegna stampa, che tra poco sarò a Roma perché dovrò preparare la puntata di Quarta Repubblica di domani sera, in questo grande casino politico. Vorrei però fare una premessa riguardo a questo grande casino politico. Come sapete sono quattro anni che leggiamo i giornali insieme, anzi li leggo io per voi e voi mi rispondete, mi dite alcuni dei vostri punti di vista sulle mie posizioni, ma anche su quelle dei giornali. Oggi, leggendo i giornali, tutti quanti parlano ovviamente delle difficoltà e del trick e track che c'è tra Di Maio e Salvini. Io ho pensato, ovviamente li ho letti tutti, retroscena e non retroscena, la ridicolaggine di questo passo indietro rispetto al condono fiscale che doveva esserci e che di fatto non ci sarà più, tra poco ne parlerò. Poi però mi sono imbattuto, come faccio tutti i giorni, su Repubblica, che non è un giornale il manifesto, con tutto il rispetto Italia Oggi, non è un piccolo giornale, è uno dei due grandi giornali italiani, uno di quelli che ha fatto l'opinione in Italia. E mi leggo, a parte le questioni governative, io ripiombo in un mondo che io non vorrei più vedere. Non perché io abbia antipatia nei confronti di uno di questi due personaggi, anzi Nicola Zingaretti forse sarà un ottimo segretario del Partito Democratico, ma quando leggo due pagine dedicate da Repubblica Zingaretti, due, firma Nicola Zingaretti, penso questo era il mondo precedente, questo era il mondo che ci raccontavano prima che andava tutto quanto bene, un per cento del PIL dice Zingaretti agli asili e fa il suo progetto elettorale. Allora io dico, ragazzi questi sono gli stessi che rompono le balle al 2,4% di questo governo, governo, questi sono gli stessi che dicono che questo governo è velleitario, questi sono gli stessi che pensano che questo governo esageri con la propaganda, quando io mi leggo due pagine, due di uno dei tre o quattro candidati di segretaria del PD, è legittimo, i giornali fanno come cavolo gli pare, figurarsi un po' voi, ma sto pensando a me, al mio atteggiamento nei confronti della politica, il nostro atteggiamento della politica è un disastro, va bene, questo è se si dice leggiamo su Repubblica eccetera, e che cosa ci stanno offrendo in cambio? Due pagine di Zingaretti che vi inviterei a leggere, veramente una cosa stupenda, dopo le due pagine di Zingaretti non contenti c'è una pagina intera, una pagina intera dedicata all'intervista di Francesco Merlo al sindaco di Riace, io invito tutti coloro, tutti coloro che pensano che Salvini sia un fascista, che pensano che Salvini sia un, che stiamo sull'orlo del burrone, invito Silvio Berlusconi a leggersi, io invito il cavaliere Silvio Berlusconi a leggersi Repubblica, Francesco Merlo e l'intervista al sindaco di Riace, uno degli esempi della politica del PD del passato governo, porca puttana, leggetevi il sindaco di Riace, oggi intervistato da Merlo, al quale per esempio dice, tra le altre cose, il sindaco di Riace oggi dice, sono contro la proprietà privata, a Riace non serve, allora ragazzi, capisci? Cioè quando tu poi vedi e leggi il sindaco di Riace il modello Riace e pensi che il modello Riace sia il modello del fantastico buonismo e l'orrore sia l'odi, allora poi pensi, insomma forse ragazzi sapete che c'è di nuovo? Io questo modello Riace che costa 10 milioni di euro, io non so se sono stati gestiti male come dice la procura, ma la procura segnala 10 milioni di euro nostri che sono arrivati a Riace, questo vuol dire che se noi applicassimo il modello Riace a 8 mila comuni italiani costerebbe 80 miliardi, va bene? Non abbiamo neanche un miliardo per ridurre le tasse, invece noi avremo 80 per fare il modello Riace, in cui il sindaco di Riace dice, cari amici intellettuali che vi leggete Repubblica, che siete tutti contenti del modello Riace e schifati dal modello l'odi, qui non diciamo nulla se al modello Riace questo ci racconta che la proprietà privata lui non la vuole. Ecco, io penso che questo sia un rischio e si chiama comunismo molto più vicino alla nostra realtà, visto il modello Riace, di un fascismo che in Italia non esiste. Chiaro? Basta, basta con questo Lucano, non è basta con questo Lucano, sto commentando quello che c'è sui giornali. Andiamo sulle questioni della politica di oggi. Pare che ieri nel Consiglio dei Ministri si siano messi d'accordo su un testo, l'accordo è molto semplice, ci sono delle interviste di Armando Siri che parlano di un addendum che verrà fatto attraverso un emendamento, ma l'accordo è semplicemente che non c'è più il condono, cioè il famoso articolo 9 che prevedeva una dichiarazione integrativa fino a 100 mila Euro, quindi arriva a 500 mila Euro in 5 anni di tasse che tu non avevi pagato ma che non avevi neanche dichiarato, sia chiaro, non avevi neanche dichiarato, quindi dici ah mi sono dimenticato di chiarare 100 mila Euro nel 2015, ops ti paghi il 20% e sei a posto, chiaramente una flat tax per gli evasori straordinaria e che avrebbe reso molti soldi, ma il punto fondamentale è che questa flat tax non varrà più, questa condom tax non avverrà più se i capitali erano all'estero, va bene, e non avverrà più senza, non ci sarà più alcuno scudo di tipo penale, e allora su questo però qualche problemino ce l'abbiamo, e cioè se non c'è lo scudo penale voi pensate che siano molti quelli che riusciranno a oggi denunciarsi? Mi sembra che qualcuno oggi sul fatto riprenda Conte che dica è una materia complicata anche per i commercialisti, siccome io un pochino ne ho parlato di questa cosa negli anni per la volontà di disclosure, che era un condono, però se lo fa Renzi non si chiama condono, se lo fa Gentiloni, se lo fa Letta non si chiamano condoni ma si chiamano voluntary disclosure, se lo fa Berlusconi si chiama scudo fiscale, se lo fa Tremonti si chiama scudo fiscale, ma comunque sempre condoni sono, il punto fondamentale è che se tu togli lo scudo penale non ci sarà nessun pazzo che si autodenuncerà, chiaro? Non è molto difficile da capire, no? Perché io posso avere un beneficio sul fisco ma non ho un beneficio ovviamente sulla possibilità che questi mi facciano un mazzo così dal punto di vista penale. Verrà introdotto, ce lo dice Armando Siri, un'altra cosa che è un'altra, il cosiddetto saldo e stralcio e cioè le cartelle esattoriali, quindi siamo su un altro campo, non il campo di far emergere il nero, ma un campo per cui ti hanno già pizzicato, bene se ti hanno già pizzicato dice tu potrai stralciare, potrai annullare queste cartelle al 6, al 10 o al 20% a seconda del tuo ISEE, cioè a seconda del reddito ed è una sorta di super rottamazione, quindi amici cari non c'è più il condono, mini condono non esiste, è finito, a meno che tu non abbia delle situazioni molto particolari, perché il vero condono era quello che il Movimento 5 Stelle oggi non ha fatto passare, contenti o non contenti questa è la realtà. In realtà tutto questo è anche a beneficio della piazza del Movimento 5 Stelle, perché proprio ieri Di Maio si presenta al Circo Massimo, purtroppo proprio dovevo lavorare io, a dire ragazzi ce l'abbiamo fatta, non fare il condono, il condono non è passato e Dibba si collegherà da un luogo segreto di Sud America, come fosse il comandante Narcos, come si chiama il comandante che sta facendo una grande battaglia, sta in vacanza con la moglie che è incinta, sta andando al mare, quindi magari non vuol dire che sta a Cicenizza o forse non sta a Tulum, perché dove c'è lui sempre sembra che ci sia una specie di rivoluzione, qualche volta fa anche le foto al tramonto col figlio, non lo so, immagino, comunque sia il comandante Di Battista dice che ritorna a Natale perché gli manca la battaglia, in realtà la battaglia dicono tutti che la stia facendo là, ma in realtà gli manca la battaglia in Italia, però bisognerebbe comunicare al comandante Di Battista che la battaglia in Italia non c'è, a meno che non si presuma quello che oggi un po' tutti presumono, e cioè che si è rotto completamente l'accordo e la fiducia e l'intuitus persone tra Di Maio e Salvini, cosa che dice Sallusti nel suo fondo del giornale e che quindi probabilmente le elezioni europee quando la Lega dal 17 passerà al 30%, farà sì che ci sia un altro disagio all'interno della tenuta di questo governo. Lunedì, cioè domani, attenzione a come reagiranno i mercati, non tanto all'accordo che è stato fatto, ma alle questioni che riguardano il rating, che è stato abbassato venerdì scorso, anche se è stato abbassato meno di quanto i gufi del Corriere della Sera temessero. Cosa dice qua? Insomma, Clavier è un'altra questione fondamentale perché Salvini ha messo una pattuglia della polizia laddove le pattuglie della polizia francesi ci scaricano gli immigrati, quello che io mi chiedo e che i giornali non dicono è cosa succede se arriva un'altra pattuglia della Gendarmerie con tre immigrati dentro e c'è la pattuglia dei poliziotti italiani, si sparano per decidere chi e dove devono andare questi immigrati, sparano gli immigrati, fanno a botte tra di loro, insomma cosa succede? Quando si mettono le polizie alla frontiera è sempre un segnale un po' pericolosetto. L'attrice Helen Miller, che io devo confessare non so chi sia, ha un ruolo importantissimo colto dalla col diretti, della demagogica col diretti e cioè quella di essere l'ambasciatrice dell'ulivo e della xylella che sta distruggendo la Puglia nel mondo. Il problema è che l'hanno beccata a distruggere i muretti a secco e a fare abusi edilizi nella sua straordinaria terra di Puglia e nelle cese. La trova una storia come sempre italiana, favolosa, favolosa, l'attrice che deve fare la fenomena e non lo è. Sul caso Cassoggi, che io sapete sono appassionato, c'è Maurizio Molinari che ci spiega come la dinastia, come il reame huabita, cioè quello dei principi che governano l'Arabia Saudita, alla fine sia sempre rimasto un regime tribale. L'ultima cosa, se volete, che vi voglio raccontare, perché oggi c'è evidentemente un'anticipazione dell'ultimo libro di Philip Roth, che secondo me è un grandissimo scrittore americano e uno di quelli di cui ho letto praticamente tutto. Beh, io trovo che forse il pezzettino oggi più bello di Philip Roth lo trovate sul Corriere della Sera dove parla la linfa vitale della narrativa è la concretezza. Sentirmi dire da un romanziere che la linfa vitale della narrativa è la concretezza e che lui ha un'incessante concentrazione sui particolari, forse è una di quelle cose che oggi danno un po' il senso della grandezza di questo scrittore che adoro. Leggetevolo sul Corriere della Sera, è un pezzo suo in cui racconta, dice non vi parlerò del solito aneddoto della bicicletta che mettevo i libri quando ero piccolo e mi leggevo questi libri, li mettevo nel cestino della bicicletta, ma cercherò di spiegarvi perché raccontavo che c'era un cestino e che vi raccontavo come era fatta quella bicicletta. Insomma, in una domenica in cui gli inserti culturali a partire da quelli del sole valgono zero, ci penserà la domenica di Gnocchi a farli fuori tutti quanti, come sapete la nuova rubrica di Alessandro Gnocchi, forse l'unica cosa che oggi verrebbe la pena leggersi è il mitico Philip Roth. Se vi piace questa zuppa condividetela, che è l'unico strumento che abbiamo per poter diffondere e fottere l'algoritmo di Facebook che ci fa questa ecochambers per cui andiamo a finire soltanto nelle nostre case, oggi sono 4 anni dall'inizio di questa zuppa, quindi un buon anniversario a voi, a me e a tutti quanti quelli che la seguono da anni. Ciao!